Musica Bene ragazzi, qui Raptor e oggi come vedete sono tornato su Black Ops 3 a commentarvi questo nuovo gameplay che ho registrato più o meno una settimana fa inizio col scusarmi se per tutta la settimana non ce l'ho fatta caricare video ragazzi ma purtroppo non ho avuto tempo perché ho fatto tutta la settimana arrivare a casa da lavorare alle 8 e mezza barra 9 di sera e dopo logicamente non ce la fai più comunque si raga, oggi vi porto questa partita qui che come vi ho detto c'è più o meno una settimana perché oltre al poco tempo non sono riuscito fino adesso a registrarvi un altro gameplay un po' più carino di questo perché questo qui è abbastanza carino perché riuscirò a prendere tutte le ricompense però non è il massimo di sto mondo, è l'unica cosa che sono riuscito a tenervi da parte da mettere sul canale perché sennò continuo a rimanere inattivo come un pirla comunque si ragazzi in questa partita qui usavo l'ICR1 come bonus adesso sinceramente non me li ricordo più perché siccome stavo imparando un po' il gioco perché l'avevo appena preso quando ho fatto sto video li stavo provando un po' a caso quindi i bonus non me li ricordo l'unica cosa che ho avuto proprio lo stimolo di mettervi questa partita qui a differenza delle altre che ho registrato che più o meno come uccisioni e tempistiche sono uguali le ho voluto mettere perché siccome usavo una ricompensa un po' alta che sarebbe la nave Raps che è la nuova ricompensa di Black Ops 3 oltre agli altri tre che hanno messo in più è abbastanza carina come ricompensa non fa proprio cagare però c'ha i pro e i contro i pro diciamo che la puoi prendere senza fare troppe uccisioni che non è un punteggio proprio elevato da prendere adesso non mi ricordo più quanti punti, quante kill e punti devi fare però non è altissima l'unica pecca è che logicamente non essendo altissima come ricompensa non potete immaginare che faccia 20 uccisioni ogni volta che la tirate perché io ad esempio in questa partita qui lasciando stare che erano in 5 o 6 vabbè che era dominio normale non era neanche guerra terrestre però una volta che l'ho tirata a parte che era finito anche il round proprio mentre mi stava finendo la ricompensa però mi sembra che ho fatto 4 uccisioni forse 5 è un po' il contro di vista ricompensa diciamo che quando te ti sta arrivando perché adesso vedete per chi non l'ha vista in pratica tra un po' la prenderò non so bene fra quanto fra un paio di minuti però comunque non so se avete mai visto il film Battleship che sarebbe quel film che in pratica c'è il protagonista lì che è sulla nave vabbè che poi arrivano sti alieni che mandano sti navette roteanti che tirano giù tutta la nave in pratica è la stessa roba è uguale identico infatti penso che l'abbiano copiato da lì comunque sia una volta che le tirate arriva una nave dal cielo vabbè per forza non da arriva una specie d'aereo dal cielo che butta giù ste palle che girano seghettate che in pratica quando vanno a colpire il nemico perché girano per la mappa non è che lo squarciano esplodono e quindi automaticamente ti lascia la kill e niente sono un po' così e così perché in pratica se te visto che su sto gioco qui hanno messo sempre il salto a propulsione non è una roba esagerata però è giusta se ti sta arrivando vicino che hai anche antischegge adesso non so se senza antischegge funziona o no ma se hai antischegge se te salti non ti fa un cazzo perché ho già provato anch'io quando me li sono beccati due volte di fila contro da da un fenomeno che continuavo a tirarle che non so che cazzo aveva comunque sia non mi ha ammazzato neanche una volta con tutte quelle che mi sono arrivate addosso perché continuavo a saltare e non mi facevano un cazzo quindi se per caso mille persone che giocano Black Ops 3 sanno che si deve saltare e ne hai contro quattro che lo sanno nella partita te ti li ha ricompensa uccisione per un cazzo perché farai poche kill però comunque sia come vi ho detto non è il il raid penso si dica un raid che sarebbe quell'elicottero d'artilleria pesante che vi fa 20 uccisioni ogni volta che lo tirate è una roba un po' più bassa però ve l'ho voluta mi sono inceppato ve l'ho voluta mettere perché mi sembra una roba abbastanza carina da farvi vedere siccome è nuova nei code non c'è mai stata e prossimamente ve ne metterò un'altra se riuscirò a prenderla ah no no è vero che cretino l'ho già messo il video in cui prendo la l'affare lì il robotico lì che spara vabbè adesso non mi ricordo più come si chiama però comunque sia ci sono tante 3 o 4 forse ricompense che hanno messo nuove abbastanza carine oltre al blackboard che adesso si chiama ATR che è più o meno uguale l'unica cosa che forse dura un po' meno vabbè comunque sia siamo sempre lì mettono una cosa in più ne tolgono un'altra le solite cose una cosa che volevo dirvi ragazzi è che siccome io adesso sto adesso mi vedete a livello 17 vabbè perché è il video della settimana scorsa però siccome adesso che io volevo registrarvi qualche nuovo gameplay un po' più frequentemente proprio per via del gioco nuovo che è uscito avrai bisogno di fare un bel gruppo di gioco quando mi collego alla sera dopo le 9 quindi se per caso qualcuno gioca gioca abbastanza frequentemente alla sera gli orari dopo 9 9 e mezza così mi aggiunga che trovo il nome in descrizione come sempre sotto tutti i video su ps4 naturalmente non su non su isbox one perché di isbox one non ce l'ho mi aggiunga che almeno facciamo gruppo e cerchiamo di fare qualche bel video anche da portare sul canale così ci siete anche voi e diventa una roba abbastanza carina perché purtroppo io ragazzi fino adesso non ho ancora fatto gruppo con un cazzo di nessuno perché si ogni tanto vedo qualche invito che mi arriva però raga con questa cazzo di notifica lì di merda della play che vi fa vedere ogni 3x2 il messaggio lì unisciti a un gruppo di voce lì per parlare lo confondo e certe volte non ci faccio caso comunque sia come vi ho detto se volete giocare con me a fare gruppo 4 5 6 che almeno riusciamo a fare qualcosa di carino perché oramai in questi code qui su mv2 ed mv3 era un'altra cosa ma in questi code qui se non si gioca di gruppo non si fa più un cazzo infatti io vorrei registrare proprio qualche bel gameplay per fare video un po' più frequentemente e portarvi anche qualcosa di carino come tutti gli altri canali che ci saranno in giro di canali che fanno 60-70 kg la partita io finora il massimo che sono riuscito farne 50 e non ho neanche potuto registrare la partita perché avevo la memoria della play piena guardate che culo allucinante che ho come sempre e avevo anche un'altra partita di dead match a squadra veterano che ho fatto 35-2 e anche lì ho fatto registra solo che mi si è bloccata la play non me l'ha registrata vabbè pazienza e anche lì l'ho preso nel culo però comunque vi stavo dicendo se qualcuno ha intenzione di fare gruppo con me mi aggiunga pure senza neanche chiedermelo che io aggiungo tutti perché tanto non mi ricordo più quanto spazio puoi avere di amici sulla play 4 che è aumentato un casino rispetto alla 3 però almeno siamo tutti insieme giochiamo quando mi collego online almeno trovo sempre qualcuno che vuol giocare e non c'è nessun problema dopo un'altra cosa prima che finisce il video che mi sono ricordato adesso di dirvi è che io magari prossimamente volevo fare un video della modalità zombie come facevo quando c'era black ops 1 che avevo registrato come avevo detto un po' di tempo fa quando era appena uscito black ops 1 con un mio compagno di classe che mi attaccavo sempre 3-4 ore alla sera dalle 9 all'1 alle 2 di notte a fare i round sulla mappa Kino del Totten che alla fine è stato il video più visualizzato come vi avevo detto perché ho fatto 140.000 visualizzazioni con quella partita lì che avevo fatto 41 round mi sembra una roba del genere e se per caso trovo un gruppo di gioco mi piacerebbe anche fare qualche bella qualche bel video su zombie in modo che faccio vedere se ci sono gli easter egg perché ancora non lo so guarderò poi qualche tutorial su internet se magari qualche americano l'ha già fatto che ha già scoperto tutti i bug e tutti i trucchi di zombie ci scommetto i coglioni che qualcosa hanno già combinato però comunque sia visto che facevo anche prima quando proprio avevo tutti gli iscritti attivi i video degli easter egg come sbloccare le armi spiegare i bonus facevo tutti i tutorial in pratica e molti round in una partita sola quindi mi piacerebbe ritornare come era prima che in pratica facevo tutti questi video di zombie perché ormai quando da quando è uscito black ops 1 che hanno fatto poi il 2 e adesso c'è il 3 hanno sempre guardato bene tutte le partite di zombie su youtube molto più dei gameplay da quanto adesso io dico black ops 2 ma non mi ricordo neanche se in black ops 2 c'è zombie che memoria del cazzo che ho mamma mia scusate la fail raga ma ogni tanto mi confondo comunque visto che da quanto vedo su internet e così le partite di zombie sono come vi ho detto le più viste mi piacerebbe un casino farle anche a me con gli iscritti e i compagni di gioco e cose così quindi se vi piace l'idea come vi ho detto aggiungetemi mandatemi un messaggio se per caso non vedete che non rispondo agli inviti perché a certe volte non ci faccio caso e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto anche se non è la fine del mondo perché come vi ho detto l'unica cosa che sono riuscito a registrare se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportare il canale che mi aiuta un casino un bel commento per dire la vostra e se non siete ancora iscritti alla pagina di facebook ragazzi iscrivetevi perché tengo sempre aggiornato tutti anche lì quindi ragazzi io vi come vi ho detto vi consiglio di lasciare un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima bella ragazzi ciao ciao non potevano competere missione riuscita